no o l'orello facci godere l'orello salve a tutti i friends dal vostro super corris e soprattutto al nostro l'orello c'è la bello che adesso deve fare un altro appuntamento del vrc abbiamo un punto ma qua non ci fa fa niente aspetta fai vabbè dai aspettiamo che abbiamo qualche altro punto allora andiamo a vedere ragazzi oh cavolo rally di belgio mamma mia dobbiamo dare riposo perché i ragazzi devono recuperare mamma mia voglio io lo odio il belgio perché sono strade strettissime incasinate speriamo di riuscire a fare qualcosa speriamo di riuscire a fare qualcosa di positivo al rally di belgio 4 da asciutto morbido 4 ha bagnato e due dure ma partiamo che mettiamo qua perché quelle da bagnato ci ha messo fanno capire va bene dai partiamo così va bene come al solito iscrivetevi a tutti i miei canali se avete voglia lasciate un like seguitemi sui miei social sul canale telegram delle offerte super corris offerte amazon dove appena uscirà la pre vendita del nuovo rc che esce ad agosto la metteremo in anteprima c'è fruit rob canale viola dove stasera torneremo in live c'è il canale ufficiale super corris 84 di telegram per le news in anteprime sondaggio in cui vi chiedo cosa volete vedere c'è la mia raccolta fondi super corris and friends potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza basta un euro trovate in descrizione guarda quando è incasinato qua minchia quant'è tosto il pavè eh raga non ci si entra guarda che cacchio di strada forse ho messo un po' troppi effetti sul volante perché vibra da pazzi e destra 2 in destra 2 e sinistra 2 oh raga la tossissima e destra 2 e in sinistra 3 non si può manco tirarlo fino a mano in sinistra 1 larga 150 ma cacchio dobbiamo andare qua sinistra 4 e in destra 5 corta e destra 5 e in sinistra 4 molto lunga sto andando piano raga perché non lo shake down non voglio fare danni non andando a stretto sto rally in destra 3 e media e in sinistra piena 30 destra 6 e 50 però bellissimo graficamente un po' come al solito ho levato la connessione ma guardate ragazzi che secondo me abbiamo il cambio semi automatico sì perché sento che cambia le marce da solo fammi andare a vedere una cosa ma che riparazioni ma chi sti di non abbiamo toccato nulla ah boh si due colpette al muretto sì secondo me abbiamo il cambio sì semi automatico infatti mi ha cambiato le marce due volte da solo perché io per fare foto poi le faccio col pad e non ho voglia di fare col cambio manuale allora metto quello automatico allora le gomme vanno bene dai si parte si parte per la gara vera ragazzi dobbiamo battere 8 tanac no 8 tanac perché ne sono 8 in pista ne uno solo si chiama 8 però 8 tanacco vai 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 eh tosta qua non dobbiamo far danni alla prima prova speciale 5 4 3 2 1 dove sta la curva qua via secca destra 30 e secca sinistra taglia poco 80 no madonna ma non è tosto sto rally secca sinistra taglia poco 80 secca destra in destra piena e sinistra 3 e destra 4 chiude non tagliare in sinistra 3 e destra piena in attenzione sinistra 2 molto lunga sbagliato perché essendo molto lunga potrei evitare di crescere ma sbagliato l'orello e sinistra 3 in destra 4 non tagliare chiude in sinistra 3 e 50 oh siamo primi e ancora ci ribattiamo sinistra 5 taglia poco in destra 5 e sinistra 5 lunga in destra 6 lunga 50 oh sinistra 5 corta in destra 4 media chiude e sinistra 4 chiude 80 no ma perché fa così sto sterzo aspettate un attimo devo arrivare allo sterzo e lo faccio vedere in diretta perché secondo me ho messo forze d'effetto secondo me ho messo devo calare tutta sta roba perché gira da solo in certe curmi da certe botte poterose ho messo tutto troppo alto abbassiamo un po' tutto perché cioè mi si rigira da solo forza complessiva passiamo pure qua un po' vai destra 6 in destra 5 chiude e sinistra 4 media attenzione freno pesante secca destra attraversa 300 dai dai ci siamo destra 5 stringe e attenzione freno pesante secca sinistra stringe 150 allora ne abbiamo fatto il pelo attenzione secca sinistra non tagliare e sinistra 4 in destra 3 taglia 30 attenzione secca destra taglia poco 50 attenzione sinistra destra taglia poco in destra piena in sinistra 4 taglia poco e secca destra non tagliare e sinistra destra 4 frena in secca sinistra taglia poco sinistra destra 4 e secca sinistra 80 e sinistra 4 taglia molto 100 e sinistra 4 taglia molto 100 e sinistra 4 taglia 80 sinistra 3 non tagliare 30 e sinistra 4 taglia poco 250 sinistra 5 freno pesante intornante sinistra non tagliare in secca destra 250 non vedo che cazzo sta la curva voglio e arrivo è affranato un po' prima là ma meglio meglio evitare danni è affranato un po' prima potevo fare pure qualcosa in più e vai 4 secondi la prima volta che l'orello ce l'ha bello vince la prima prova speciale yebba potevo frenare però un po' tardi comunque con l'inquadratura da fuori va molto meglio a giocare ragazzi qua con l'inquadratura da dentro abbiamo fatto i peggiori errori da fuori ti rendi conto meglio di tutto molto bravo l'orellone e qua dobbiamo provare a vincere 5 4 3 2 1 si parte destra 6 in sinistra 5 media vedo un geyser oh my god in sinistra 5 media chiude 30 attenzione freno pesante secca destra eh ma non vedo una cippa non vedo ci sono ste cazzi di piante in destra 4 in sinistra 3 e destra 3 apre e destra 5 corta in sinistra 4 in destra 4 stringi e secca sinistra in sinistra piena media stai al centro 30 destra 6 corta su dosso e sinistra 6 e cinquanta destra 5 corta in sinistra 3 media oddio in destra 4 lunga in sinistra 5 media chiude in destra 5 chiude 100 ma sembra croazia attenzione freno pesante secca sinistra no 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 errore lo sapevo che faccia una minchata concentriamoci in destra piena pieni sinistra 2 ah man destra 3 30 eh raga purtroppo sinistra 2 30 ma è la buona non ci si capa qua sinistra 2 chiude in destra 4 e sinistra 3 media in destra 5 media chiude 2 e sinistra 2 e sinistra 2 in destra 3 media in sinistra 2 taglia poco 80 destra 3 lunga castello in sinistra 4 lunga e destra 4 media in sinistra 4 in destra 4 media chiude 2 e sinistra 3 media in destra 3 e freno pesante sinistra 2 corta 30 destra 3 taglia poco in sinistra 2 30 destra 3 in sinistra 2 media non tagliare in destra 2 in destra 2 tieni in seca sinistra 30 destra 2 e sinistra 2 media destra 2 e sinistra 2 media eh ma avanti Corris eh l'orello attenzione dosso all'incrocio in destra 4 e sinistra 5 chiude in freno pesante tornante sinistro casa interna in destra piena 50 pensa che la latta parte la curva pensa un po' in destra 3 100 destra 5 chiude in sinistra 4 corta e sinistra 5 e destra 5 media attenzione freno pesante in secca destra 100 secca destra non tagliare 100 aiii sinistra piena in destra 6 taglia poco 50 attenzione freno pesante secca sinistra 50 sinistra 4 media chiude e destra 4 in curve taglia no 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 Corra aiii Christophe più carri attenzione freno pesante secca destra e sinistra 3 in destra 2 non tagliare 30 sinistra piena in destra 3 e destra 2 in sinistra 2 media chiude 30 eh purtroppo ragazzo i dettagli che fanno differenza qua sinistra 3 molto lunga in destra 3 media e sinistra 3 lunga in destra 2 tieni in sinistra piena e arrivo eh ho fatto due errori ma l'importante è non aver perso tempo eh vai alti 3 secondi guadagnati raga nonostante due errori potenti e Tanak si stacca un po' vai quarto 7 secondi non ci abbiamo nulla di vantaggio eh però si fa un rally pazzesco la bomba sull'asfalto lo sapevo che andava a finire così allora la macchina è riparata andiamo a vedere le gomme ma perchè quelle da fammi capire no però abbiamo sto a fare un bordello raga vai mettiamo le gomme nuove dietro che ci ha messo quelle da bagnato come opzione io volevo le altre gomme quelle morbide non si sa se teniamo le morbide vabbè non si sa no cavolo raga potremmo vincere dopo una mano dopo Monte Carlo la trovate qua no ma che è la prova spettacolo questa 5 4 3 2 1 andiamo secca destra 30 e secca sinistra taglia poco 80 secca sinistra taglia poco 80 secca destra in destra piena e sinistra 3 e destra 4 chiude non tagliare in sinistra 3 e non si vede niente qua e destra piena in attenzione sinistra 2 molto lunga e destra 4 in secca destra non tagliare 30 destra 3 media chiude e sinistra 3 in destra 4 non tagliare chiude in sinistra 3 50 eeeh ora delle vacche come stanno sinistra 5 taglia poco in destra 5 e sinistra 5 lunga in destra 6 lunga 50 sinistra 5 corta in destra 4 media chiude e sinistra 4 chiude 80 se cazzo di marcia a piedi ma sono terribili so in destra 5 chiude e sinistra 4 media pensione preno pesante secca destra attraversa 300 non devo rischiare nulla ragazzi e attenzione freno pesante secca sinistra stringe 150 attenzione secca sinistra non tagliare e sinistra 4 in destra 3 taglia 30 ma c'hai va va è impressionante sta ma... cioè sto gioco se non ti ribatti non sta contento non capisco perché ho solo preso un piccolo tossetto in destra piena in sinistra 4 taglia poco e sinistra destra non tagliare e sinistra destra 4 frena in secca sinistra taglia poco sinistra destra 4 e secca sinistra 80 destra 4 taglia e sinistra 4 taglia molto 100 destra 4 taglia 80 ma è successo niente ragazzi va bene sinistra 3 non tagliare 30 caspita tutte le prove speciali lunghissime abbiamo per caso qua sinistra 4 taglia poco 250 sinistra 5 freno pesante intornante sinistra non tagliare in secca destra 250 sinistra 5 media sinistra 5 media chiude 30 destra 6 in sinistra 5 media scatto che non vedo un cazzo queste piante e destra 5 media chiude 30 molto bene attenzione freno pesante secca destra e sinistra 4 in destra 4 in sinistra 3 e destra 3 apre e destra 5 corta in sinistra 4 in destra 4 stringi e secca sinistra in sinistra piena media stai al centro 30 destra 6 corta su dosso e sinistra 6 50 destra 5 corta in sinistra 3 media in destra 4 lunga e sinistra 5 media chiude in destra 5 chiude 100 attenzione freno pesante secca sinistra molto stretta in destra piena pieni sinistra 2 30 cazzo ci sta a due strade qua l'obbeggio sembra la stessa prova speciale ci sta papà sinistra 2 30 sinistra 2 chiude in destra 4 e sinistra 3 media in destra 5 media chiude 2 e sinistra 2 in destra 3 media in sinistra 2 taglia poco 80 no no oh l'orello facci godere l'orello in sinistra 4 lunga Sandro oddio e destra 4 media in sinistra 4 ma sta a giro là dove sta parcheggiata la macchina in sinistra 4 media chiude 2 e sinistra 3 media in destra 3 e freno pesante sinistra 2 corta 30 destra 3 taglia poco in sinistra 2 30 destra 3 in sinistra 2 media non tagliare in destra 2 tieni in seca sinistra 30 destra 2 e sinistra 2 media nostro Sandro donato grosso e destra 3 chiude media in sinistra 2 in destra 2 attenzione dosso all'incrocio in destra 4 e sinistra 5 chiude in freno pesante tornante sinistro casa interna in destra piena 50 secca destra secca destra taglia poco in destra 3 100 taglia poco non taglia per niente qua no taglia poco zdi ma sta a birraio chiude in sinistra 4 corta e sinistra 5 e destra 5 media attenzione freno pesante in secca destra 100 oh mio dio secca destra non tagliare 100 sta por la chiesetta in destra 6 taglia poco 50 minchia quant'è lunga sta prova minchia quant'è lunga sta prova freno pesante secca sinistra 50 sinistra 4 media chiude e destra 4 in curve taglia e vai niente sto scherzando freno pesante secca destra e sinistra 3 in destra 2 non tagliare 30 sinistra piena in destra 3 ci piace marcia a piedi a noi e destra 2 in sinistra 2 media chiude 30 sinistra 3 molto lunga vai Lorello vai in destra 3 media e sinistra 3 lunga in destra 2 pieni in sinistra piena ste marfa tutte le cavate in belgio ecco qua vedi coglione devo fare vabbè ci sta e arrivo cazzo eravamo arrivati porco zio vabbè ci sta Lorello deve divagarsi un po' nonostante tutto 9 secondi persi stavamo a 23 però va bene va bene 21 secondi Tanak è solo quarto anche se è attaccato Elfin Evans e abbiamo vinto yes niente prova speciale spettacolo vince Lorello che col quarto posto di Tanak recupera una barcazza di punti andiamo a vedere eh il T300 si adegua a questo gioco 22 ragazzi meno 22 per il nostro Lorello siamo in drittura d'arrivo e guarda là niente abbiamo recuperato anche punti sulla Hyundai prossimo rally Grecia sarà un disastro poi ci stanno la Zelanda peggio ancora e poi si finisce su asfalto dai ragazzi possiamo vincere ciao ciao a guanio ciao a guanio ciao a guanio ciao a guanio